Di Farma, Diago, cortesemente, grazie. Grazie Presidente e un grazie al Consigliere Acelli per aver proposto questa mozione che sicuramente voteremo favorevolmente. È un riconoscimento che non aggiunge nulla alla figura di Liliana Segre ma che onora grandemente la città di Roma. Purtroppo l'Italia ha ancora bisogno di testimonianze contro l'odio, contro il razzismo. L'iniziativa di Liliana Segre di una commissione contro i pronunciamenti anche verbali di odio e di violenza, di razzismo e di discriminazione è purtroppo molto necessaria. È recentissimo, credo ieri, la scoperta di nuove scritte antisemite in provincia di Cuneo, mi sembra. Quindi non sono iniziative soltanto formali, sono iniziative sostanziali che tutti dobbiamo assolutamente supportare, diffondere, perché è sempre troppo poco l'impegno che si mette contro questo mostro dell'odio, della discriminazione e del razzismo. Grazie.